Sono stati due gli incidenti stradali avvenuti a Pasquetta in Calabria sull'autostrada 2 del Mediterraneo in direzione nord, dopo lo svincolo di San Mango d'Aquino, una Fiat 500 intorno alle 22.30 per causa in corso di accertamento ha perso il controllo, andando ad impattare violentemente prima alle barriere New Jersey di delimitazione delle carreggiate e successivamente al guardrail a bordo della vettura, 4 giovani di cui 3 soccorsi nell'immediato dal personale del 118, mentre il quarto, incastrato nell'abitacolo, è stato estratto dal personale dei vigili del fuoco e affidato al personale medico. Tutti sono stati portati nell'ospedale di Cosenza. Anche alla mezzia terma, intorno alle 22.50, sul viale dei Bizantini, due auto hanno impattato una Citroen C3 ed una Nissan Qashqai, tre in totale passeggeri a bordo delle vetture. Uno ha riportato contusioni, altri due incastrati tra le lamiere sono stati estratti dal personale dei vigili del fuoco ed affidati al personale del 118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera. Sul posto polizia stradale paria dei impimenti di competenza, certamente in corso circa la dinamica del sinistro, transito bloccato nel tratto interessato dal sinistro.